Un paio di mesi fa Bianca Balti ha annunciato la decisione di congelare i suoi ovociti. Ad aggiungere i motivi che si celano dietro questa scelta è oggi la stessa modella, originaria di Lodima residente in America, che dichiara che si sottoporrà presto ad una doppia mastectomina, e isterectomia, ovvero la rimozione di seno, tube e ovaie. Proprio di recente infatti la 38enne, già mamma di due figlie, ha scoperto di essere portatrice della mutazione briche 1, ovvero quella che aumenta fino al 40% la possibilità di ammalarsi di tumore alle ovaie. Il motivo per cui sto procedendo al social freezing, questa volta, è perché questo autunno rimuoverò le ovaie e le tube a causa della diagnosi di briche 1 che ho ricevuto, ha comunicato Balti ai suoi follower, via Instagram. E ancora, l'idea di andare in menopausa a 38 anni non è allettante. Perciò lo volevo fare assicurandomi di non avere alcun rimpianto in futuro. È questa la ragione che ha portato la musa di Dolce e Gabbana, madre di Matilde e Mia, a procedere con la crioconservazione degli ovociti. Pratica, quest'ultima, che la renderà indipendentemente da un compagno qualora in futuro vorrà avere nuovi figli. La mattina di sabato 13 agosto ho iniziato un nuovo ciclo di stimolazione ovarica, il secondo nell'ultimo anno e mezzo. Il primo l'avevo concluso a marzo 2021 con il recupero, ed il conseguente congelamento di 5 vociti sani, per soddisfare la mia necessità di indipendenza riproduttiva al termine di una relazione romantica. Questo ciclo, invece, l'ho iniziato a causa della diagnosi di una mutazione genetica chiamata Briche 1, che porta il mio rischio di contrarre un tumore ovarico dall'1-2% per la popolazione femminile generale, fino al 40%. La rimozione preventiva di ovaie e tube a cui mi sottoporrò questo autunno impedirà lo sviluppo di un tumore ovarico, ma con esso anche la possibilità di rimanere incinta in modo spontaneo. Motivo per cui oggi, mercoledì 24 agosto, alle ore 7,00 del mattino, dopo 9 giorni di stimolazione ovarica, mi sottoporrò al rilevamento chirurgico degli ovociti. Real Video vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine, iscriviti e attiva la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi video.